Ce l'hai quella conclusione di L? L'hai sempre provata in allenamento? Hai fatto gol già a Bobbio? Diciamo che è la mia zolla, ecco. Diciamo che è la mia zolla e che me lo sentivo, volevo fare gol, ci tenevo. Ecco, c'è una dedica speciale. E la dedica è stata speciale per il mio amico scomparso tre mesi fa circa, Daniel Guerini, e glielo ho dedicato col cuore. Andiamo alla partita di oggi, ci si aspettava un po' una reazione, avevate voglia dopo il passo falso con il Caravaggio di chiudere bene il campionato poi in vista dei play-off? Sì, sì, noi abbiamo preparato questa partita con l'idea di venire qua e vincerla. Quindi quello che ci aspetta adesso sarà un'altra battaglia, sarà una partita come questa, temperature alte, e chi corre di più vince queste partite. Anche perché abbiamo visto tre settimane fa praticamente che è sempre una partita viva con il Crema. Sì, sì, il Crema è una squadra tostissima tra le più forti del girone e sarà una partita, se beccheremo il Crema, sarà una partita con continui cambi di fronte dove non ci saranno spazi per rifiatare. Vincerà chi ne ha di più.